Ormai si entra nel vivo, ma prima di iniziare con gli esercizi, la compilazione per i dati preliminari e il primo incontro dove ci siamo presentati. Abbiamo parlato un po' di quello che sarà il lavoro da andare a svolgere. Dunque, prima di iniziare, Adriano mi ha dato un foglio preliminare da compilare. In questo foglio andavano inseriti i miei dati. Nome, cognome, attività sportiva fatta in precedenza, perché l'ho lasciata, tutto quello che riguarda comunque l'alimentazione, lo stile di vita. E qui ho già notato una cosa. C'era una domanda, una domanda in realtà semplicissima, quasi scontata. E mi sono reso conto che avrei potuto mentire, o quantomeno avrei voluto mentire. La domanda in questione è, quante sigarette fumi al giorno? Ora, sono un fumatore che già di per sé è una cosa negativa, ma quando mi sono trovato davanti alla domanda, l'imposizione della società, tra virgolette, mi ha messo nelle condizioni anche solo di pensare di poter mentire. Non l'ho fatto, ovviamente, però è già successo. E qui mi si è sbloccata una cosa, una cosa che più avanti ho utilizzato. Ho scritto comunque la verità e sono andato avanti. Ho fatto le fotografie di com'era il mio corpo in quel momento, quindi le classiche frontali, laterali e di spalle. Io ho inviato questo documento. Subito dopo c'è stato l'incontro preliminare. Quindi quell'incontro dove quei dati sono stati analizzati, più o meno indicativamente si è fatto una sorta di strategia su quello che sarebbe stato da lì in poi il piano e lo sviluppo degli allenamenti. Il video integrale e in versione originale lo trovate sul canale di Adriano direttamente. Ve lo lascio qua sotto e qua sopra nelle schede. Io andrò a parlare di una scelta particolare che ho fatto in quel momento. Infatti mi è stato sottoposto un elenco suddiviso in tre colori. Quello nero, quello verde e quello rosso. Quindi quelli che riguardavano la sfera personale, la sfera psicologica e la sfera poi degli esercizi veri e propri, legati anche ad alcune patologie che io ho. Patologie che ho inserito nella scheda iniziale però appunto. In quel momento mi sono reso conto e ho riflettuto sul fatto che avrei potuto mentire e mi avrebbe portato uno svantaggio farlo. Magari non nell'immediato ma nel lungo periodo sì. Immaginate che io aumenta su qualcosa. E poi durante l'allenamento esce fuori un problema, esce fuori una difficoltà, esce fuori qualcosa che non ti permette di andare avanti. Come avrei potuto prenderla psicologicamente? Di sicuro non bene. E questo mi ha fatto riflettere. Ho preso una scelta impopolare, quasi sbagliata. Dico quasi, perché effettivamente per i miei standard non lo è. E cioè, mi sono ritrovato a partire da zero, totalmente zero. E di questo vi parlerò nel prossimo video, qual è stato il primo approccio agli esercizi. Ma comunque era zero. E tutte le esperienze che avevo fatto in precedenza mi avevano tra virgolette un po' traumatizzato. Vuoi per un utilizzo errato del linguaggio, per intenderci quei motivatori che per darti la carica ti tagliano le gambe. E vuoi perché comunque non essendo seguito negli esercizi sono subito insorti dei problemi posturali o dolore alla schiena che mi porto avanti da tantissimo tempo, legati proprio all'attività sportiva fatta in maniera malsana, fatta male. E lì ho deciso di non iniziare un percorso alimentare insieme a quello della palestra. Lo so che è una cosa che non dovrebbe essere fatta, ma io ho deciso di farla per tre semplici motivi. Il primo è che vuoi o non vuoi conosco me stesso. Il secondo motivo era quello di non perdere la concentrazione e la componente psicologica che mi spingeva a fare questa scelta. E il terzo motivo era quello sostanzialmente che avevo bisogno di abituarmi prima ad un esercizio fisico e solo dopo abituarmi anche alla palestra. Ora, anche se queste vengono viste come delle attività comuni, normali, in realtà creano fortissimo disagio nelle persone che si trovano ad iniziare. Vi faccio un esempio banalissimo, mi è capitato di recente, dove Adriano per l'appunto ha caricato un video dove io stavo facendo gli stacchi da terra e qualcuno mi ha scritto io lo uso come riscaldamento. Ecco, esattamente quella motivazione là. Ognuno di noi è diverso, ognuno di noi ha una motivazione diversa e siccome non sto facendo questo percorso per dimostrare qualcosa o per curare qualcos'altro, mi trovo nelle condizioni di dover rispettare la mia psiche e il mio corpo. Quindi do il tempo al mio cervello di abituarsi al cambiamento. Il cambiamento, sia positivo che negativo, è comunque un cambiamento. Influisce sulla tua vita, influisce sulle tue abitudini, è qualcosa che si radica letteralmente nelle azioni quotidiane che vai a fare e prenderlo sotto gamba e iniziare a fare un percorso sovraccarico per i tuoi standard, inevitabilmente ti porta a lasciarlo. Quindi ho deciso di non intraprendere il percorso alimentare in contemporaneo. Lo farò dopo, lo farò quando mi sarò totalmente abituato agli esercizi e quando gli stessi esercizi mi richiederanno di avere un'alimentazione tale da supportare gli stessi. Quindi sarà tutto naturale e sarà tutto più slow. Così la mia testa si abitua e il mio corpo ancora di più. Anche perché in visione del primo mesociclo di allenamento ho delle considerazioni da fare che hanno confermato questa mia scelta. Quindi sono strafelice di averlo fatto, perché se no ora vi stavo già parlando di come ho lasciato la palestra prima ancora di iniziarla. Ma ve lo spiegherò in un altro video. Dunque, presa questa decisione e finita la nostra conversazione, avevamo ben chiari quelli che sarebbero stati i primi passi, e cioè un incontro dove sarei stato testato, dove letteralmente la mia corporatura entrava in movimento ed entrava in confronto con alcuni esercizi. Alcuni che sapevo fare, altri che ho imparato a fare, altri che mi è stato spiegato come farli ma non pensavo minimamente di riuscire a fare. Insomma, tutte quelle confusioni legate ad un mondo che fino a poco prima non conoscevo. Approfondiremo questa parte perché è stata l'inizio ed è stata una parte fortemente soggetta a considerazioni da parte mia, sia per quello che riguarda le abitudini, sia per quello che riguarda i primi risultati e sia per quello che riguarda mettersi alla prova in un'attività che non è mai stata fatta prima. Di questo ne ho parlato molto con Adriano e vorrei condividere anche con voi quelle che sono le prime impressioni. Non vi chiedo se siete d'accordo perché le decisioni su di me le prendo io, ma voglio chiedervi cosa ne pensate voi, secondo voi parere soggettivo quindi, della mia scelta di non intraprendere un percorso alimentare in contemporanea a quello della palestra. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti perché sono davvero molto curioso e poi voglio sapere se è davvero una scelta così tanto impopolare. Il messaggio categorico però che voglio portare avanti durante tutta quella che sarà questa serie è la forte consapevolezza di sé, la forte conoscenza di sé stessi. A volte prendere una decisione impopolare non vuol dire fare la scelta sbagliata. È facile ricevere giudizi, è facile farne, tuttavia quando si tratta di voi e della vostra salute le prime persone che si devono interpellare siete voi, soprattutto se lo state facendo per voi stessi. Spero che questo vi sia utile e che vi abbia dato ancora di più il coraggio di intraprendere un percorso simile al mio, non necessariamente uguale, ma parlatemene, fatemi sapere cosa ne pensate e noi ci rivediamo qui su Mixtube, sempre qui con me, Raizer. Ciao!